Con il tempo senti che non passa il tempo Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola Averrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò a sé i Suoi servi e consegnò loro i Suoi beni A uno diede cinque talenti, ad uno due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno, poi partì Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri cinque Così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due Colui invece che ne aveva ricevuto uno solo, un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque Dicendo Signore mi hai consegnato cinque talenti, ecco ne ho guadagnati altri cinque Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone Se è stato fedele nel poco ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse Signore mi hai consegnato due talenti, ecco ne ho guadagnati altri due Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone Se è stato fedele nel poco ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse Signore so che sei un uomo duro Che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra Ecco ciò che è tuo Il padrone gli rispose servo malvagio e pigro Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha dieci talenti Perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza Ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre La sarà pianto e stridore di denti Parola del Signore Il messaggio delle letture di oggi non è rivolto alla capacità nostra solo di produrre Perché nella storia ci sono state tante culture cristiane Soprattutto del nord Europa E soprattutto nel campo protestante che hanno interpretato questo brano Per dire abbiamo il comando di Dio di produrre molto In effetti è un po' una forzatura Perché qua si riferisce soprattutto a quello che ci affida Lui Non tanto a quello che noi possiamo fare per noi Ma a quello che il Signore ci consegna per il Regno di Dio Quindi si tratta di tutto quello che noi ogni giorno abbiamo Da parte di Dio Perché porti frutto per il Regno di Dio Per il Signore E questo è un po' diverso dall'attività privata Perché l'attività privata è rivolta al guadagno personale Mentre qua tu lavori per un altro Lavori per Dio Anche per esempio il Signore che vi ha dato dei figli per esempio O a noi che ha affidato la cura delle persone Tutto quello che il Signore ci dà E che è chiamato a diventare fruttuoso Noi non lo possiamo considerare come un fatto privato È una realtà che Dio ci consegna Anche il matrimonio dicevo Ci consegna perché noi poi quando incontriamo il Signore Possiamo ridarglielo moltiplicato Cioè arricchito della carità e dell'impegno Quindi tutti noi siamo chiamati A essere molto attivi e zelanti Per l'interesse di Dio Che poi di per sé sarebbe anche il nostro interesse In maniera indiretta Perché più la frase finale infatti Fa capire oltre alla ricompensa Perché vi siete accorti che quando una persona è attiva Il Signore raddoppia il prodotto E poi alla fine dice Perché a chi ha sarà dato ancora di più A chi non ha sarà tolto anche quello che credeva di avere E questo per esempio lui lo dice spesso Riguardo al Regno di Dio Il Regno di Dio ha questa caratteristica Vi ricordate quando in Luca 18 Il Signore dice A chi lascia padre, madre, casa, farelli, sorelle Per il Regno di Dio Dio darà cento volte tanto in questa terra E poi il Paradiso Queste iperboli sono importanti per far capire Che tutto quello che si fa per il Regno di Dio In effetti è la ricchezza vera nostra Infatti il Regno di Dio è paragonato Alla perla preziosa E con noi non abbiamo l'idea Che il Regno di Dio è il nostro tesoro Infatti se ci fate caso anche come cristiani A livello mentale, culturale Noi pensiamo che saremo giudicati Dal punto di vista solo morale Come dire se mi comporto bene Se non mi comporto bene Se io per esempio faccio peccati Peccati mortali, peccati veniali Cose che sono vere Ma non sono il succo del discorso Anche una persona che facesse pochi peccati Ma in fondo non lavora per la vigna del Signore Non si considera qui un suo operaio Cioè chi ha una visione privatista della sua vita Rientra nella mentalità piccolo borghese E' come se ognuno di noi Tirasse l'acqua al suo murino Come se noi in effetti siamo in maniera occasionale insieme Ma al di là di questa occasione In fondo ognuno si fa gli affari suoi Invece no Il battezzato è una persona Che oltre alle attività personali Anzi anche le attività personali Rientrano nella comunione con Dio E portano frutto per la salvezza del mondo Tutto è amore Anche vi dicevo in questi giorni anche le malattie Una persona che è malata E che porta quindi delle croci O altre croci come dicevamo poco fa Famiglie dove ci sono molti guai Molti problemi Tante situazioni Pesanti Se sono vissute nel nome di Dio Come una partecipazione All'opera del Signore In effetti questo Questo Porta il Signore A operare in maniera anche fruttosissima Per tutti E' come per dire Il Signore ci chiede Di avere una visione della vita Che va oltre La nostra convenienza personale Ognuno di noi Più si apre A servire Dio Per quello che ci affida Perché ci ha affidato tanto Perché ci ha affidato tanto Ci ha affidato la carità verso gli altri Ecco più Più noi viviamo questo E più poi quando ci presenteremo davanti al Signore Noi siamo conformi Prima immersi nel suo corpo mistico Col battesimo E come per dire Prima ci ha fatti i suoi E poi all'interno Proprio di questo Di questa grande famiglia Poi ci ama in modo personale Ecco questo è importante Perché noi abbiamo una relazione con gli altri Che rientra nel piano di Dio Cioè come mi comporto io con voi Ecco questo produce per il Signore Come ognuno di noi si comporta Per tutte le persone che incontra Vi ricordate che cosa Quando Gesù ha detto Anche le persone cattive Amano i loro La loro famiglia I loro figli Anche le persone Anche i mafiosi Anche i delinquenti Amano la loro cerchia Ma l'amore del Signore Invece un amore Universale Un amore grande Una vita d'amore Ecco siate luce del mondo Ora quell'atteggiamento Di paura Di aver sotterrato Perché poi Sotterrare i soldi Anticamente era L'abitudine dei contadini Li sotterravano vero i soldi Li mettevano In un involucro E li sotterravano nel terreno Quindi Gesù prende spunto da questo Per dire non va sotterrato Bisogna che veramente La tua vita Acquisti valore Nella carità Per gli altri Ripeto Ma non è solo un problema Fattivo Concreto Perché una persona Che è paralizzata In un letto Non può Non può fare Non può fare niente Per gli altri Anzi Lo devono aiutare Però la sua croce Unita a quella di Cristo Il chicco di grano Che marcisce sarebbe Porta molto frutto Cioè noi possiamo valorizzare Anche i guai che abbiamo Questo voglio dire Ecco Quello che abbiamo Se abbiamo Tutto quello che ci affida a Dio Ecco a volte ci affida Anche delle croci pesanti Noi non possiamo Considerare le croci Soltanto dal punto di vista Umano come se fossero Delle sfortune Perché Gesù Non considerò la sua croce Una sfortuna La considerò Una missione Anche se la causa Erano gli uomini Perché non è che Sono gli uomini Che hanno causato La croce di Cristo Ma Gesù La considerò Una missione Che aveva Ora il Signore Ha dato Una missione A ognuno di queste qua Quindi bisogna Che porti frutto Secondo il piano di Dio Ecco E' come se il Signore Oggi ci dicesse Dovete essere attivi In funzione di Dio Però Perché essere attivi In funzione del proprio egoismo E' un po' diverso Ecco Molte persone Nella società Sono molto attive Ecco Come per dire Prodomo sua Cioè per la sua casa Per i suoi fatti Per i suoi interessi No Qua è per dire Produciamo Davanti a Dio Ecco Il fatto per esempio Che una persona Ci metta pure l'intenzione Di uscire fuori Dal proprio egoismo Anche lo stesso fatto Che noi diciamo Tornando a casa Io Non è bene Che vivo Solo per i miei interessi Io devo vivere Per il bene Delle persone Che incongro Cioè pure quando vai Dal macellaio Proprio quando vai Da nostra persona Il fatto che tu sei gentile Il fatto che tu sei Luce del mondo È una cosa che rischiare A prolauce A noi sembra niente Ma sapete Quando tu incontri gente Che è disponibile Sui posti di lavoro Gentile Che fa più del proprio Stretto dovere sindacale Cioè tu arricchisci la società Sapete Ci vuole questa cultura Secondo me Perché è una società Estremamente egoista Dove ognuno Se ha interesse Le fa le cose Se non ha interesse Non ci interessa niente Invece Il fatto per esempio Di essere attivi Ma non per sé Perché agli occhi di Dio Il bene fatto agli altri Vale assai E produce E questo è Io secondo me È un messaggio Veramente di civiltà Ecco Il fatto di fare le cose Proprio per il bene Delle persone Della società Vi immaginate Se tutti i deputati Fussero Avessero promoposto Il bene di tutti noi Ora ti correremo tutto Capiscio Ma è un riso amaro Questo Però Perché sappiamo Che ognuno Si fa i propri interessi Ma se Se noi entrassimo Nella mentalità Come vuole il Signore Che noi siamo qui Non per noi Qua siamo qui Per gli altri Più siamo servi E più produciamo Davanti a Dio Invece L'ultimo servo Si è lasciato prendere Dalla paura Così E poi c'è un altro elemento Nella seconda lettura Che mi è piaciuto molto Il fatto che dire Quando la gente dice Siamo a posto Siamo così Arriva all'improvviso E perché sapete Tutte quelle persone Che muoiono In maniera accidentale In maniera anche così Di fatto Erano preparati E sapete Bisogna prepararsi Dice il Signore Il fatto che noi Ci prepariamo ogni giorno E diciamo Signore Io mi devo presentare Davanti a te E so che hai Questa mentalità E che io devo Rendere conto a te Ecco il fatto Di non rendere conto A nessuno Favorisce molto Il male Perché sapete Chiedi che fanno Tante cose cattive Pensano Che non devono Rendere conto a nessuno Invece Il Signore dice No tu dovrai Rendere conto Perché tu non sei Il padrone Noi ci comportiamo Da padroni Ecco Il fatto che Quello ha ucciso A Giulia In testazione E che ero Pagione Veramente Certe volte Noi gestiamo C'è gente Nel mondo Che si considera Il padrone Degli altri E fa chi lui vuole No dice il Signore Tu ti dovrai Presentare davanti Al vero padrone Sapete Un poco di paura Va Onestamente Mi pare che sia importante Che ognuno Il timore di dire Muoro Ecco in questi anni Di epidemia Quanta gente Da un minuto all'altro Ricoperato Morire soli Sapete che Io penso Mi immagino tanta gente Con Ducasco Certe volte Vi ricordate Ci mettevano Ducasco Le cose Dico è una morte terribile Ma uno è preparato Non è preparato Cioè Se deve fare questi conti Non è che potremo Campare così In maniera etàistica Capito L'ateo Non ci vuole pensare A queste cose Perché gli viene Più facile Più comodo Pensare a questa vita Così Mentre il Signore Ci rivela la verità Gesù ha detto Io sono la via La verità è la vita La verità è che La vita Ci è stata affidata Perché cresca nella carità Per tutti Per tutti Perché ha carità E ha carità Per tutti Ecco Perché io penso Che veramente Se ogni persona Entrasse nell'ottica Che è qui Per gli altri Ognuno fa il suo lavoro Certo guadagna Perché deve guadagnare Perché De fatto Ma è prima di tutto Oltre il guadagno Per gli altri Anzi Il più grande guadagno È la carità Oltre lo stipendio Che doveva fare Quindi è un'ottica Che il Signore ci dice Stai attento Perché poi Alla fine della tua vita Quello che conta Vero È il valore Della carità Che hai davanti a Dio Cioè per tutti Perché in effetti Dio non è che ha bisogno Di noi Strettamente Ecco Come creature Siamo noi Che abbiamo bisogno Di lui Ma a lui Non è che ci manca niente Alcimente non sarebbe Dio Se ci mancasse qualcosa Ma siccome È così grande Il suo amore Che lui Le cose le fa Perché ha piacere Di farle Non perché ha bisogno Ha piacere E vi dicevo Proprio stamattina Che al di là Di tutti i peccati Di tutti i problemi Il Signore Ha piacere Quando i suoi figli Conoscono la verità E sono liberi Quando Dio Vede una persona Di noi Schiava della superbia Schiava dell'orgoglio Schiava di tante altre cose Che abbiamo elencato Di tutti i sette vizi capitali Cioè il padre Giustamente Come è stato anche accennato È addolorato Perché dice Oh Io non vi ho creati Per essere schiavi Vi ho creati Per essere liberi Liberi Per amare Perché se una persona Non è libera Gli è impedito Di amare veramente Occorre la libertà Dell'interiore Mentre noi Consideriamo La libertà Ci fate caso Come qualcosa Per fare quello Che vogliamo La libertà Invece la libertà Per il Signore Nel nome di Dio Con un occhio Dispiacere di dispiacere Ma vuole Rallegrare il suo cuore È bello Rallegrare gli altri No E quindi Che ti fa piacere Che io Sia generoso Che sia sincero Che sia solare Che sia positivo Eh Lo voglio fare Perché Tu ci hai creati Per il bene Per questo poi Alla fine Dice A chi ha questo Tipo di mentalità Il Signore Darà molto di più Perché trova la disponibilità E ti arricchisce Ma chi invece Lavora Invece Sul Sul Chiudere Al privato Verso Ecco La vita Gli toglierà Anche quello Che aveva Perché Alla morte Tutto quello Che non appartiene a Dio Ci verrà tolto Pure il corpo In attesa Della risurrezione Ma pure il corpo Tutto dobbiamo lasciare Tranne la carità di Dio Quindi chiediamo al Signore Di avere questa mentalità Che ci porta A valutare le cose Non dal punto di vista Del nostro io Ma di valutare La giornata Dal punto di vista Di Dio Ecco Di guardare a Dio E dire un attimo Davanti a te Ecco Che cosa è bene Davanti a te Che cosa è giusto Davanti a te Oh Signore Che cosa posso fare Per poter Quando arriverò Davanti a te Per poter essere Abbracciato Vi siete accorti Che è bello Quando dice Vieni servo buono e fedele Mi rallegro Per come hai vissuto Avere il volto Sorridente di Dio Quando moriamo Penso che è una prospettiva Che per noi cristiani È fondamentale Di dire Signore Fa che io Quando Lascerò questa vita Ti vedrò sorridere Ti voglio Voglio essere Abbracciato da te In maniera Sorridente Bello Ecco Questo deve cominciare Fin da oggi Perché Ogni giorno La nostra vita Alimenta Il regno di Dio È un lavoro Che si fa Tutti i giorni E che confluisce Nella edificazione Del regno Il regno Si alimenta Con la carità Quotidiana Ecco Anche nelle sofferenze Perché nella vita Ci sono gioia e dolori Si è lodato Gesù Cristo